Risalgono i contagi in Italia. Torna l'incubo del lockdown. Una seconda ondata è stata prevista dai virologi. Staremo a casa di nuovo? Tutta la nazione in apprezzione. Sono stato al tuo mio mercato e quindi è finito il lievito. Minchia, sta succedendo di nuovo. Dopo il primo lockdown... Non ci possiamo lasciare. Ma io non ti amo più. Ma a me non me ne frega niente che non mi ami. Noi due siamo congiunti. Se ci lasciamo io durante il lockdown, a chi minchia vado a trovare. Il mondo sapeva già cosa fare. Allora, quale vuole? Tutti. Li prendo tutti. Per vincere questa battaglia... Ma che stai facendo? Mi sto portando la spazzatura a casa per le passeggiate serali durante il lockdown. Minchia, hai ragione, hai ragione. Minchia, tu... Hai limiti della follia. DPCM, 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 DPCM. Io autocertifico che è, io autocertifico che è, DPCM. Io autocertifico che è, DPCM, DPCM, DPCM. Io autocertifico che è, limito di birra. Pizza fatta in casa, pizza fatta in casa, dolce. Saranno disposti a tu. Fermi tutti, questa è la rapina. Vemati, vemati. Vemati. Cosa volete l'incasso? L'incasso, l'incasso. Dammi tutta la mochila chiave. Le mascherine pure, le mascherine. San Giuseppe da Conte, prega per noi. San Carrello, protettore delle file dei supermercati. Prega per noi. San lievito da birra. Prega per noi. Santa spazzatura che ci permette di uscire la sera. Prega per noi. San congiunto protettore delle passeggiate. Prega per noi. Pregate tutto per noi. Tutti. Se ci sei, se andrà tutto bene, dacci un segnale. Ce la veremo! Resto a casa 2. Il ritorno. Da ottobre, nelle vostre case. Se continuate a fare le teste di casa. Grazie. Vai, 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 vai. Scusi, non è per caso ha qualcosa per l'emorroidi? Perché per ora... No. Arrivederci! Che minchia ci dobbiamo vedere? Che abbiamo finito tutto al primo lockdown. E Netflix l'abbiamo finito. Amazon l'abbiamo finito. Che cosa rimane? Barbara D'Urso. No. No. Barbara D'Urso no! Ti prego!